Giovedì 2 gennaio, buongiorno, bentrovati e ancora sinceri auguri di un sereno 2020. In regia questa mattina Daniele Ricciuto. Dopo la fusione tra Fiat e Peugeot il 2020 sarà un anno di aspettative per il gruppo automobilistico. A Termoli c'è attesa per l'incontro del prossimo 9 gennaio in cui la direzione aziendale ha convocato i sindacati per illustrare tutte le novità sulle produzioni e sul futuro della fabbrica più importante della regione. L'intervista al segretario Wilm Francesco Guida è di Fabrizio Occhionero. Vediamo. Il 2020 sarà un anno decisivo per il futuro dello stabilimento Fiat Chrysler di Termoli. Noi siamo con Francesco Guida, segretario provinciale della Wilm. Gli addetti della fabbrica più importante della regione sono più di 2.500. Quali le prospettive? Ma prospettive secondo noi positive. Fiat il 20 di dicembre ci ha ufficializzato l'avvio dei lavori a fine di gennaio e quindi secondo noi le prospettive sono positive. Cosa riguardano questi lavori? Allora i lavori riguardano l'arrivo di due nuovi motori, il 1000 e il 1500, ibrido e aspirato. Sono i motori nuovi che Fiat metterà sul mercato entro fine 2020, inizio 2021 e sostituiranno il mitico FIRE. E in merito alla cassa integrazione? Ma purtroppo la cassa integrazione persiste ancora in alcune aree dello stabilimento come quella del cambio che attualmente è in forte difficoltà a causa delle demonizzazioni che attualmente continua sul diesel, cosa per noi sbagliatissima. In agenda c'è una data importante, il prossimo 9 gennaio siete stati convocati dalla direzione aziendale. Sì, il 9 gennaio è una data importante, lì sapremo tutti i dettagli, conosceremo per quanto riguarda le persone coinvolte all'interno di questo processo di ristrutturazione dell'azienda, i mesi e tutti i numeri, quindi saremo molto più precisi e dettagliati per capire come si svilupperà il 2020. Intanto cosa si sente di dire ai dipendenti e alle loro famiglie? Sicuramente sarà il prossimo anno quello della trasformazione vera, dove vedremo effettivamente, grazie all'inizio dei lavori, la trasformazione dello stabilimento. Termoli ha sempre dato il suo contributo grazie alla professionalità delle maestranze, sia donne che uomini, che compongono la fabbrica e sono sicuro che passato questo periodo di trasformazione Termoli avrà un grande rilancio. Cambiamo argomento, si intitola Volti a gamba tesa ed è la mostra in cui l'artista Maria Finelli espone ritratti della gente del paese, effettuati con una tecnica molto personale a matita e carboncino. L'esposizione rimane aperta fino al 5 gennaio. Giuseppe Carriera ha incontrato la disegnatrice del servizio. Una tecnica particolare che tecnologicamente potrebbe imitare il campionamento delle immagini, ma che in realtà unisce fantasia, spirito d'osservazione, tratti a matita e carboncino, per istituire dei ritratti dal gusto fotografico, ma fatti interamente disegnando a mano. Maria Finelli torna a esporre a gamba tesa fino al 5 gennaio, questa volta con una mostra dedicata soprattutto a Volti, dopo aver proposto scorci e immagini del paese. Il progetto nasce con un po' di presunzione, nel senso che da un documentario su Leonardo da Vinci, dove si è visto che lui nel dipingere usava una tecnica particolare, quindi velava il dipindo con delle pennellate leggerissime a olio, dove c'erano pochissimi pigmenti, fino a ottenere quello che voleva, quel colore, quella corposità. A questo punto ho pensato perché non farlo anche con le matite e col carboncino, quindi questa tecnica è un po', non so se esiste, però è nata da questa velatura, quindi strati su strati su strati di matita prima dura, poi morbida, e alla fine quando si è ottenuto il ritratto, quello che a me piace, non essendo io un iperrealista, vado a sporcare il tutto con il carboncino e a sfumarlo. Non è che siamo tornati a qualcosa che succedeva anni, forse secoli fa, c'è quel gusto di farsi fare un ritratto? Guarda, io non lo so se il gusto c'è o meno, però ho avuto grande riscontro. Siamo circa una ventina di volti, tra cui anche il sindaco e un consigliere comunale. Spero che più che altro si apprezzi il lavoro, non voglio dire artistico, non ho questa presunzione, però almeno il lavoro artigianale, il fatto di lavorare, di impiegare del tempo, di mettere la propria passione e di metterci anche un po' di se stessi in quello che si fa. Ed ora un appuntamento del nostro palinzesto, l'anno che verrà. È il titolo della puntata speciale di Millibar in onda questa sera su Telemolise alle 21. Ospite della trasmissione, il presidente della regione Donato Toma, intervistato da Pasquale Di Bello. Bene, con questa notizia ci fermiamo, adesso uno sguardo ai quotidiani. La rassegna stampa inizia con il giornale del Molise.it. In primo piano ci sono i primi nati del 2020 che sono venuti alla luce al Veneziale e al Santimotio, quindi Sermia e Termoli. Capodanno all'insegna del divertimento e senza incidenti. L'articolo è firmato da Anna Maria Di Matteo. Le altre notizie, restiamo in argomento, come dire, siamo a Termoli. Primo tuffo dell'anno sul lungomare per brindare al 2020, un tradizionale appuntamento. Si parla anche del sisma 2018, prorogato lo stato di emergenza. Per quanto riguarda la pagina amministrativa, da Agnone il sindaco Marco Vecchio volta pagina ufficializzato il nuovo esecutivo. Ci spostiamo adesso a Campobasso, Stefania Tomaro è il nuovo amministratore unico della SEA, la municipalizzata SEA. Altri titoli, cronaca, picchiava ai vicini, eseguita una misura del divieto di avvicinamento per un 52enne. A Termoli adesso, lesioni gravi e minacce reiterate, divieto di avvicinamento alla ex compagna per un giovane di 28 anni. Vediamo anche qui gli auguri del presidente Toma per il 2020, mentre da Campobasso, via libera del Consiglio Comunale al bilancio di previsione, il sindaco parla di risultato importante e critiche le opposizioni. In basso la sezione editoriali idee ed opinioni, la notizia dalla Regione e dall'Italia. Siamo adesso su primo piano, l'apertura è politica. Il senatore Di Marzio verso l'addio, bye bye 5 stelle. Nel movimento dice che è impedita qualsiasi forma di dissenso. Chi lo fa finisce sotto attacco, caso rimborsi docet. Dunque, il direttore sanitario del Cardarelli vuote il sacco. Mi chiesero di candidarmi e accettai per risolvere i problemi del Paese. Aggiunto, mi ritrovo a pigiare i tasti per decisioni assunte da altri. Per quanto riguarda le notizie che riguardano la Regione, i capi di partimento, la giunta Toma ne conferma 4 su 5 fuori Giarrusso. Dunque, sono Mogavero, Pillarella, Iocca e Gallo. Restano in carica Brasiello. Dunque, questi 4 restano in carica. Brasiello è la new entry. Nel editoriale di oggi, a firma del direttore Colella, Meno odio e più amore, salviamo il Molise. Grande foto a centropagina. Leonardo Tuono batte tutti e lui il primo nato del 2020. Ha visto la luce al Veneziale poco dopo la mezzanotte. Divin e Diletta inaugurano l'anno al Santimoteo di Termoli. Si parla anche del sisma 2018 perché è stata prorogata l'emergenza. Manca però il commissario. Nella rubrica Dentro la notizia, tuffi nel Volturno e nell'Adriatico, piazze piene e maitunate, rispettata la tradizione. Ad Agnone, Marco Vecchio tira dritto, il sindaco Varato, il nuovo esecutivo, dentro un esterno. Ne notizie sotto la testata, ci spostiamo a Venafro, dove torna l'incubo furti, coppia, trova i ladri in giardino, tanto malviventi in azione, pure a Toro. Abbiamo visto a Campobasso che al bilancio entro il 31 dicembre è la prima volta, è stato detto, intanto Tomaro al vertice della SEA. La cronaca da Salcito, follia nella notte, 37enne investito con l'auto dopo il litigio. Affermati un uomo e una donna. Uno sguardo mondo dello sport, calcio, Campobasso, l'obiettivo è dimezzare lo svantaggio sul notarisco in due partite. In casa agnonese, per i Granata, Out, Ciampi e Frabotta nella gara di Monte Giorgio. Si parla anche di sport virtuali. La LND, la Liga Nazionale dei Viettanti, ospiterà a Ripa Limosani il campionato regionale. Infine, il Cus Molise festeggia il traguardo dei 30 anni. Torniamo sul web con il quotidiano telematico futuro Molise. In primo piano la cronaca, condotte persecutorie e lesioni a danno di una coppia di Campobasso, eseguita una misura cautelare nei confronti di un 52enne. Sulla destra, Forche Caudine, basta con le speculazioni sull'emigrazione, ha scritto l'Associazione dei Molisani a Roma. Altra notizia, il Vescovo Gianfrancesco Di Luca celebra le messe del 1 gennaio 2020 all'ospedale Santimotio di Termoli, al centro sociale di Monte Cilfone. Poi c'è anche il bilancio di fine anno per la Polizia Postale e delle comunicazioni di Campobasso. In basso la sezione attualità, abbiamo visto con gli interventi dei Forche Caudine, ancora scorrendo il futuro Molise, la sezione dedicata alle notizie che riguardano la politica. Dunque da questa mattina i quotidiani sono tornati in edicola, diamo uno sguardo al Corriere della Sera, evidenza il titolo di apertura riguardo autostrade, si riapre il caso. Di Maio dice ora la revoca delle concessioni, ma il sottosegretario PD Margiotta aggiunge e parla di vicenda delicata. Mattarella intanto nel discorso di fine anno è seguito da 10 milioni su TV e web, fiducia nel Paese e nei giovani. A centro pagina il Papa strattonato perde la pazienza e poi chiede scusa. Questa è una notizia che troveremo su quasi tutte le prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali. Il Corriere intanto dedica con questa fotonotizia spazio a quello che sta accadendo in Australia, in fiamme, fuga verso il mare. Già 18 vittime, migliaia di persone accampate in spiaggia. Ci spostiamo sulla Repubblica 2020, il manifesto della giovane Italia. Grande eco per il messaggio di Mattarella alla nazione. L'accento è sulle nuove generazioni che hanno capito le sfide dell'ambiente e della globalizzazione. La politica deve tenere viva la speranza, è stato detto. Interviene anche il leader Deghista che parla di discorso mellifluo. Nel sommario, leggiamo ancora, Berlusconi dice non mollo la guida di Forza Italia, sarò il garante di Salvini in Europa. Di spalla il Papa. Scusate se anch'io perdo la pazienza. C'è questo fermo immagine con questa donna che strattona Papa Francesco, irritata da una fedele. Poi abbiamo visto, ha chiesto scusa. Il fatto quotidiano in alto. Ci aspettiamo dal governo sul lavoro, giustizia, opere, crisi aziendali, clima e altre cose. Dunque i consigli non richiesti dei ministri ombra del fatto. Grande foto. Il buon governo leghista. Cemento e niente bilanci. Esercizio provvisorio per Basilicata, Umbria e Sardegna, dove Solinas autorizza le costruzioni sulla costa. Chiudiamo anche il fatto per spostarci sul quotidiano della CEI. Avvenire la fiducia e la pace. Dunque si punta sui discorsi di Mattarella e di Papa Francesco. Da Mattarella e da Francesco il forte invito all'impegno e alla responsabilità. Il Presidente, il Paese ha grandi potenzialità. Il Papa, più spazio per le donne. Nei messaggi appello a un nuovo atteggiamento. E anche a venire, ricorda, il pronte civile, c'è strattonato, reagisce, poi si scusa. Dagli esteri, notizia al centro pagina. Alta tensione tra USA e Iran. Avvertimento di Trump dopo l'assedio degli sciiti all'ambasciata americana a Baghdad. Passiamo al mattino. L'apertura è questa. Prescrizione senza scadenza. 30.000 processi all'anno. Dunque via alla riforma voluta dal Ministro Bonafede. I dubbi di pubblici ministeri e avvocati. Obrobrio giuridico è stato detto. Congessione da autostrade. Scontro tra ministri. De Michele intanto frena Di Maio. A centro pagina il bilancio dei botti di fine anno, il veglione all'ospedale, mani distrutte dai botti e ragazzi sfatti dall'alcol, scrive il mattino. Il primario del pronto soccorso del Cardarelli dice una vera piaga, vera piaga delle feste, sono le baby sbronze. Dunque molti ragazzi hanno dovuto fare ricorso al pronto soccorso. Il manifesto fuga dall'inferno, devastazione senza precedenti in Australia colpita da un mese di incendi. Ieri altri 100 focolai. Cresce il numero dei morti. Migliaia di persone in fuga ed ecosistema in fumo. Uccisi 480 milioni di animali. Il governo, sponsor dei combustibili fossili, aggiunge il giornale, nega il ruolo dei cambiamenti climatici. In alto quest'altra notizia, duce duce, Anna Frank al forno. È una frase virgolettata, siamo a Venezia, appestati l'ex deputato Arturo Scotto e un ventenne, Filippo Storer. Ora dal manifesto al secolo, che dedica spazio al sindaco di Piombino, Rossi di Vergogna, Piombino, dove il PD pretende riconservare i vecchi privilegi della nomenclatura. Francesco Scorace parla, dopo decenni dice, è toccato a un uomo di destra, arrivare a fare il sindaco di una città simbolo. In basso, Meloni, Plaude e Mattarella parla di discorso di alto profilo. Anche qui, Bergoglio perde le staffe, poi chiede scuse in piazza. Si parla anche di Roma, rifiuti senza pace, ritornano a Malagrotta. Malagrotta è una discarica. Autostrade frenate sulla Revoca, titolo di apertura del messaggero. Di Maio accelera e arriva all'alto là dei trasporti. Aspi dopo il crollo, dice, in due mesi verifiche nelle gallerie. Mattarella serve più fiducia a ridurre il divario nord-sud. Intanto Paragone è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Vedete questa foto? Schiaffetti alla fedele. Il Papa si scusa, Bergoglio era stato strattonato. E lui ha detto, anche io perdo la pazienza. Abbiamo visto che poi si è immediatamente scusato. Siamo adesso sulla stampa che apre con una intervista a Salvini. Conte è lo zero assoluto, ha detto rispetto al pontefice. Ma la centralità delle donne è negata da certa immigrazione musulmana. Il discorso del Papa intanto richiama gli stessi valori sottolineati da Mattarella. Cioè fiducia, giovani e accoglienza. Vedete questa grande foto? Perché ci sono delle novità. Monopattini come le bici, ecco le regole per usarli in città. Da ieri dunque i monopattini sono equiparati alle biciclette. Siamo adesso sul libero, grande spazio al Papa. Anche lui si incazza, scrive il quotidiano di Feltri. Un paio di schiaffi ad una rompiscatole. Una fedele asiatica strattona il pontefice che reagisce violentemente. Bergoglio poi si scusa e dice, ho dato il cattivo esempio. Però per il quotidiano di Feltri ha fatto bene e parla di legittima difesa. Grande foto a centro pagina, Milano in balia dei teppisti. Gli abusivi bruciano di tutto. La notte di San Silvestro vissuta sulla volante della polizia con un giornalista di Libero. Il tempo, notizia che riguarda Banca Italia, ci prende per scemi, scrive il quotidiano romano. Incredibile spot per l'educazione finanziaria con due video su carte di credito e investimenti. E ingaggiati due comici, dando l'idea che gli italiani non capiscano nulla sull'utilizzo dei propri soldi. Vedete questa fotonotizia? Il Papa si libera con uno schiaffo da una fedele. Il giorno dopo si scusa per il cattivo esempio. In basso, Movimento 5 Stelle, ecco i 59 piccoli, casaleggio. E poi il senatore dissidente, Paragone, espulso dai grillini. E lui dice, sono stato cacciato via dal nulla. Ci spostiamo sul sole 24 ore. Eccolo qui, pubblico impiego, 60 mila assunzioni in più nel triennio. Si parla dunque di statali. Manovra, mille proroghe, decreto fiscale aumentano l'organico netto della pubblica amministrazione. La legge di bilancio sblocca anche il 100% del turnover, 150 unità all'anno. La verità, nell'apertura diversa, come spesso capita, nel condominio di Don Bolletta, si festeggia il capodanno gay, veglione omo nello stabile occupato a Roma. Dopo che il cardinal Krajewski ha riallacciato l'elettricità, staccata per mancati pagamenti, lo avviene lo spin time, definito così, che va alla grande. E malgrado la diffida, ha celebrato un San Silvestro aperto, giovane, frocio, libero e ribelle. In basso, i nostri ospedali senza medici né infermieri. Ecco il piano salute del ministro, una toppa per spedire specializzanti e pensionati in corsia. Adesso passiamo al sport sulla Gazzetta. Eccolo qui, reazione Inter, via un supermercato, scontro tra Bianconeri e Conte. Subito Vidal e in estate il sogno Ericsson. Juve, oggi firma Kulusevski. Di spalla a proposito di oggi, Ibra Day, Zlatan Biss, lo sbarco, dunque una scossa per il Milan, Befana Show a San Silo. E' atteso, dunque, alle 11 all'inate e poi le visite. In basso parla Capello e dice, attento Sarri, con il Cileno e i Nerazzurri sono da Scudetto. Dal calcio al motociclismo, in alto Rossi, o la Vale o la Spacca. Se quest'anno, dice il campione, non vado, lascio, conto su una Yamaha più veloce. Bene, come sempre con la Gazzetta dello Sport, terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per essere stati con noi e vi ricordo alle 14 la seconda edizione del TG. Buona giornata, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Buona giornata.